Si dice che cane e gatto non vadano d'accordo invece dietro al portone di via Bissolati a Cremona al numero 85. Quell'antica strada denominata Canon c'è un caseggiato con case a ringhiera dove convivono pacificamente tantissimi animali. Siamo 14 famiglie, la maggior parte delle quali vive qui da sempre si può dire, infatti abitano qui anche le mamme, parenti vari e siamo tutti innamorati degli animali. Di conseguenza ci sono gatti, cani e compagnia bella. Accanto ai classici cani e gatti in tutta una trentina ci sono anche tanti altri animali tra cui alcuni esotici messi in salvo e recuperati da Sabina. Ho furetti, i petauli dello zucchero, serpenti, un geco e anche delle chiocciole africane. Bene o male tutti diciamo sono stati recuperati. Sabina fa parte di due associazioni, spesso in stallo tutta una serie di animali. Una è qui di Cremona che è amici dei mici con la nostra presidente la Primella di Stagno e recuperiamo, abbiamo le colonie di gatti e facciamo recuperi, stalli, adozioni. L'altra associazione è la Rescue Dog di Parma, il mio si chiama Nucleoama e ci occupiamo di fare recuperi, adozioni e soprattutto informazione su animali esotici o animali non pretamente comuni diciamo. Grazie a tutti.